Nella stessa posizione, quindi centrale di centrocampo con vertice passo, attenzione, azione da parte di Lamela in area di rigore, colpa di tocco, capitano, pira, go! 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 Capitano! Go! Capitano il mio capitano! Oh, Rosi, lo scambio per il capitano e si entra ancora per piani, c'è ancora il cross al centro, parola che viene restito da Komodo, palla ancora per Lamela, limite dell'area di rigore, la c'è ancora per il capitano! Go! 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 La palla verso Pjanic, avanza mira, la medina dell'area di rigore, al destro la parata, respinta e si fa il gioco, ancora più a me! GOOOOOO! 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 E' il gol di Mirella! Anche un'appladi! GOOOOOO! 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 GOOOOOO!